guidare su un fondo innevato oggi alla portata di tutti se viaggiate su un'auto dotata di pneumatici invernali e dei controlli elettronici di stabilità e trazione basta rispettare alcune regole di buon senso a cominciare dalla posizione di guida che deve essere corretta per controllare al meglio ogni reazione dell'auto dunque ricordate mani sul volante alle 9 e 15 in partenza accelerate in modo progressivo eventualmente in seconda marcia o impostando il programma elettronico winter non fatevi intimorire dalle reazioni della vettura cercate di mantenere un'andatura costante ed evitate manovre brusche il gas va centellinato e non bisogna mai accelerare in curva per non innescare una sbandata e in frenata anche qui dovete essere molto dolci agendo sul pedale solo a ruote dritte e ricordate che gli spazi di arresto sono più lunghi se siete costretti ad una frenata di emergenza l'abs eviterà il bloccaggio delle ruote dunque può convenire rilasciare più volto il pedale